Nei primi cinque anni successivi agli internet ci sono stati più milionari nuovi rispetto ai 50 anni precedenti. Nei primi cinque anni successivi ci sono stati più milionari nuovi, cioè che si sono creati da soli, rispetto ai 50 precedenti. Che cosa vuol dire? Vuol dire che passare da qui a qui, o addirittura anche da qui alcune volte, non è così difficile come lo era prima di internet. Il problema qual è? Che se sei un po' statico e non hai una direzione precisa da qui, è molto facile invece che passi qui. Perché se andiamo a analizzare il consumo, i prodotti di lusso hanno avuto crisi? Anzi, sono in aumento i beni di lusso. I beni low cost hanno conosciuto crisi e sono in aumento. In aumento. Quelli della fascia media hanno conosciuto crisi. Ed è per questo che la clessidra qua è sempre più stretta. Quindi se sei qui, devi prendere una direzione e se no il problema è che finisci qua. Adesso ve lo ripeto, non stiamo parlando di guadagnare milioni di euro, di andare in giro con la Rolls Royce, Arturo che guida e che ci dà il vassoio dei Ferrero Rocher. Le ricordate? Ambroglio, bravissima. Perché? Ma è molto importante perché quel tipo di pubblicità, dentro la nostra testa, qualcosa ha fatto. Dopo andiamo a capire meglio. E quindi io non sto parlando di fare quello, io sto parlando di poter creare la condizione in cui posso fare ciò che voglio, quando voglio, con chi voglio, per quanto tempo voglio e quindi posso scegliere.